Ciao ragazzi, oggi stiamo parlando di un'altra cosa, grazie per un minuto un po' diversa che ragazzi stiamo sulla maniera da soli per fare ragazzi uno scherzo con mio fratello, grazie per mio fratello non c'è, ragazzi comunque oggi farò solo parte dello scherzo, che non lo scambio da tutto l'altro, ragazzi secondo me io ci scrivo il video e quindi non sarà un po' difficile fare in più io ragazzi dovremo parte dello scherzo, quello scherzo ragazzi, lo finiremo, to quello da macchina, in ragazzi, scherzo finiremo, to quello da macchina ragazzi una scherzo è questa, vogliamo fare parte di questa, lo prendiamo tutto quello da macchina, le porteremo un po' di una scherzo, abbiamo finito, per quello da macchina, sono tutte scherzze, capito ragazzi, ragazzi sto parlando abbassando scena, ma voi mi sentivete abbastanza forte che comunque, alzo, io di solito alzo anche il volume per quello da macchina, perché quando lo so di là, uno potrebbe sentire, ragazzi, non ho provato a pensare, che sto facendo tanto, solitamente, giocando, ci sta, allora poi ti amo, voi giovi, ragazzi sarà davvero difficile, ragazzi, 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 parlando, ragazzi, ti fa controllare. allora vai se ci sta il video adesso ci sono un video dai vai attimo poi poi facciamo sì il video perché non lo scherzo sotto il video che faccio vedere come ho fatto no grazie no dai io non lo voglio mettete la guattatura mi metto il figlio non lo voglio dai 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 da te lo piantai no no pianto vattene dai e va bene mi fai grazie vado 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 giusto e da come ti prendai e da no ok bravo ricordi ragazzi comunque ora potrei anche parlare questa voce perché quando sto parlando di cosa e non si sospettirà mai allora ragazzi devo trovare un medicamento della pietra solo e mi faccio la pietra poi adesso andiamoci a fare l'ascia in modo che potremmo fare le differenze allora ricapitoliamo quando rilascia a posto è già il traccio ma andrebbe la novità ai ragazzi ragazzi non vi preoccupate che non lo stanno al sicuro che voi potrebbe rimanere male come è successo fatto sulla casa e come ricordate ci potrebbe rimanere male quindi non vi preoccupate ragazzi sarà una sorpresa bellissima forse perché stanno a capire ragazzi stanno a capire quindi ragazzi non vi preoccupate che è una cosa bellissima la mucca sono molto abitata la mucca mi servebbe il tuo cibo capire quindi non ti da ammazzare e dai è un altro stacco di legna andiamo a vivendo qui allora eccolo di questa睡ora di questo che facciamo così ce la puoi egli ora, ce lo ho io solo perché ma poi adesso ecco, cosa facciamo? ci vada stupito penso oggi oggi faremo del parto che se mi faccio solo il recinto e poi più e poi e poi nel prossimo episodio quando è che scopri anche lo scelto lo farò vedere naturalmente ma io ti faccio la legna io mi avevo accorto vabbè piano tutta la legna e trasformiamola in un stick ragazzi un quadro fa molto fancy che mi aveva un caldo due perché sono statenti che non la quattro ragazze per 50 watts probabilmente uno stacca va bene il posto dove metterla in modo che Antonio non la vede il posto che ragazzi lo metto in punto così Antonio domani quando registreremo il video non la vede lo metto anche troppo lontana ma troppo difficile portarli io ho in mano capito ragazzi questo lo titolo a 15 minuti perché mamma fa solo parte comunque io che non potessi fare per farlo se li voglio comunque devi farla qui quando quando è qui della stasera un video che ragazzi poi subito dopo il video una volta quando noi non giochiamo anche quando mi ha salto luce non lo che è? si 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 ok si ok provare che non ci vuole il ventone io ho decisamente qualcosa vorrei che non mi ha capito allora ora ho deciso ragazzi ci faccio molto vicino la gente parola così il suo presegno tutte per sentire e dopo non c'è la cosa io ci ho detto sta cosa comunque sono ragazzi per questo video che poi sarebbe il posto perfetto un'altra questa cosa ci sto facendo molto bene cosa buona scegli questa cosa e sto facendo comunque che direte che noi faremo finta che stiamo registrando un video normale quindi andrò intorno a spetterebbe mai video e quindi facci con un aglio non è gestito l'ottavo episodio mi si chiama della manilla diceva bene nel discorso di stando rischi ovviamente si è congelato questa cosa e si fai una domanda no facciamo un po' più ragazzi mi sono messa insieme a mangiare un momento in pazzo ragazzi torniamo al momento ragazzi mi hanno chiesto quando uscirà questo video perché ragazzi mi hanno detto questa cosa ma non è questo no e poi questa ma cacchio non lo so ne sono messa insieme a non è erano menù che ci sono no no voglio chi ne 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 pensi come ammazzano, come ammazzano, come ammazzano no aiuto di barman a far barman ma sono seguita tutto il mondo aiutami e per me il pezzo è diventato solo nella mia questo sicuro lì non c'è sicuro però molto potente ragazzo un attimo il video per vedere non c'è sicuro e ragazzi comunque ci stanno ripresi e ragazzi non riesco a capire il letto da graffin che la questa cosa e così non devo andare avanti indietro ragazzi comunque penso che il video è finito qui quasi finito qui perché probabilmente ho fatto tutto quindi non c'è proprio niente da fare ancora allo più alticello che fidati ragazzi quando è buono altro che ragazze del quale non ce la farò quindi sicuramente farà io ricordare che teme uno stacco perché metti uno stacco di di legna ancora alimentare non ce li vuole a poter mettere niente ragazzi comunque non vi ho voluto velocizzare un po il video che sarebbe stato sicuramente stancante vedere poi sarebbe dato troppo il video ragazzi mi dovrà proprio 15 secondi un po di più però quella è comunque la data di di caricamento di un pezzo video ragazzi comunque andrà a vedere anche i vecchi due video con il video che abbiamo fatto prima che sarebbe che ci vediamo domani ci vediamo domani con gli altri video e ci vediamo invece dopo domani con la finitura dello scherzo che ragazzi fidatevi che sarà difficilissimo per dire che io voglio portare peco in giro perché se si distrava un po si mettono una roba di prendersi quindi ragazzi lasciate like iscrivetevi al canale e ci vediamo un buon video ciao ciao allora ragazzi volta cosa non vi seguite anche su twitter qui non mi chiamate non mi chiamo mia domanda tutto il nostro posto ufficio ci siamo un po' di video ciao ciao